Terminale offensivo della squadra di Pacchera, Bugeia prova a liberarsi, calcio del Sassuolo e ci prova nuovamente poco dopo con Bugeia che serve Monterubiano Del secondo tempo con Bugeia che pesca in verticale Dubkova, che mette a sedere anche durante, pionato, scatenata, Camila Dubkova, maglia a maniche corte, guanti di lana, sfida il freddo così Il taglio comunque geniale di Alei Bugeia, il calcio di rigore che riaprirà la gara, prima però Alei Bugeia prova il tocco verso il C per il Verona ma 4 su 4 dal dischetto Passano pochi istanti, intervento altrettanto ingenuo in area con Umbra del secondo palo, liberissima per Pirone, slalom di Bugeia, qui siamo al 75esimo Terzo calcio di rigore del match, il secondo per il Sassuolo, cambia l'esecutrice non più Dubkova ma Alei Bugeia che spiazza durante, gol del 4 a 1 Il quinto gol della sedicenne maltese che guarda il portiere e poi mette il pallone dall'alto